Le piattaforme petrolifere in mare davanti alla costa molisana ricadono nel territorio di Petacciato. Questo vuol dire che Eni ed Edison devono versare i contributi Imo e Tasi al comune di Petacciato e non a quello di Termoli, come si era pensato fino a pochi mesi fa. Si parla di una cifra che si aggira attorno ai 23 milioni di euro. Il sindaco Roberto Di Pardo, convinto insieme alla sua giunta che le piattaforme fossero nel proprio territorio, aveva chiesto il pagamento dell'imposta per gli anni dal 2012 al 2017. Gli avvisi di pagamento erano stati impugnati dalle società, sostenendo che l'impianto di estrazione del petrolio non fosse un bene imponibile, ma la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso invece ha dato ragione al comune. La sentenza che condanna le multinazionali è esecutiva, ma il comune per ora non intende pignorare alcuna somma. Più probabile invece la strada della transazione, considerando che si tratta di un primo grado di giudizio. La convinzione c'è sempre stata. Come dicevo, siamo stati, proprio come amministratori, siamo fatti un giro in barca con un tecnico per quelle che erano le nostre convinzioni, battendo i confini a terra, battendo i confini a mare, con le carte nautiche. Lì è diventata per noi la certezza e abbiamo fatto l'accertamento nel 2018. Nel 2019, a aprile, è intervenuto a soccorso nostro quella che è stata la sentenza verso il comune di Termoli, che diceva che il tributo non era dovuto a Termoli perché mancava la competenza territoriale. Il giudice lì è andato oltre, al CITU gli ha detto va bene, mi stai dicendo che non sono del comune di Termoli, dimmi di chi sono queste piattaforme. E lì il perito ha detto che ricadevano nei confini territoriali del comune di Pedacciato. Avendo fatto noi già l'accertamento, diciamo che abbiamo incominciato a presagire di aver visto bene. Potremmo mettere in esecuzione la sentenza, è una strada, cioè significa andare a pignorare quelle somme nei conti correnti di Eni e Edison. Oppure aspettare una loro mossa e credo che probabilmente si andrà in questa direzione anche per quello che sono state le esperienze dei comuni riveraschi che si sono trovati nelle nostre stesse condizioni in passato. Il ricorso è stato curato per conto del comune dall'avvocato Stefano Labbate che insieme al sindaco sta valutando la strada dell'accordo con le multinazionali per il pagamento di una somma decisamente inferiore ai 23 milioni di euro ma sempre importante per un piccolo centro come Pedacciato. Per il 2018 poi le due società devono al comune 4 milioni di euro e a partire dal 2019 per una modifica voluta dallo Stato la cifra si dimezza. Grazie. Grazie.